Clima sereno e cordiale nell'incontro tra il Papa e il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Matteo Renzi, ricevuto stamani in Vaticano. Al centro dell'incontro le persistenti difficoltà di natura economica e sociale, con conseguenze negative per l'occupazione dei giovani. Sottolineata l'importanza di educare per promuovere il futuro delle nuove generazioni. Spazio poi anche all'attualità internazionale, con la grave preoccupazione specialmente per il progressivo peggioramento dei conflitti nell'area medio orientale. Con riferimento al semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea, si è ribadita l'importanza dei temi affrontati dal Papa nel suo viaggio a Strasburgo. Temi che, si legge nel comunicato della Sala Stampa Vaticana, risultano fondamentali per l'armonico sviluppo dei popoli europei. Infine, si è rinnovato l'impegno delle parti a proseguire nella mutua cooperazione per risolvere alcune problematiche di natura bilaterale. Grazie. 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 Grazie.